Benvenuti al corso dell'ente bilaterale del turismo toscano sui servizi al lavoro. Capitolo 1. Servizi al lavoro. Il servizio di incontro domanda offerta di lavoro è uno dei servizi gratuiti che l'ente bilaterale del turismo toscano offre ai propri associati e consente di incrociare le competenze di chi cerca occupazione con le esigenze delle imprese. È un servizio rivolto alle imprese che ricercano figure professionali da inserire all'interno della propria organizzazione alle persone in cerca di lavoro o che intendono migliorare la propria situazione lavorativa. L'ente bilaterale del turismo toscano è accreditato dalla Regione Toscana per lo svolgimento dei servizi al lavoro. Il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro è svolto attraverso il software Incontro su www.turismolavoro.it nei nostri 16 centri servizi che l'ente bilaterale ha dislocati in ogni provincia della Toscana e nei centri a maggior concentrazione di imprese turistiche. Il software Incontro fornisce agli operatori dell'ente bilaterale uno strumento evoluto per la gestione delle attività di matching tra domande e offerte di lavoro. Permette infatti di raccogliere, organizzare, archiviare e promuovere le richieste di personale qualificato da parte delle imprese del settore del turismo e di gestire il database delle candidature dei lavoratori. I candidati possono consultare su www.turismolavoro.it le offerte di lavoro attive per provincia di interesse cliccando direttamente sulla mappa o per area professionale cercata cliccando sul menu. I candidati, cliccando sulla provincia dove intendono lavorare, ad esempio Firenze, visualizzano l'elenco delle offerte di lavoro per mansione. I candidati possono visualizzare ogni offerta di lavoro in dettaglio e i riferimenti del centro servizi dell'ente bilaterale che ha pubblicato l'annuncio. Per candidarsi all'offerta di lavoro di EBTT, i candidati devono prima effettuare la registrazione del proprio curriculum vite sul sito www.turismolavoro.it cliccando su Vuoi lavorare nel turismo? Inserisci la tua candidatura e inserire il proprio codice fiscale. I candidati procedono all'inserimento dei propri dati anagrafici, nome, cognome, data e luogo di nascita. Procedono all'inserimento dei recapiti, indirizzo, comune di residenza, numero di telefono, email. Inseriscono il proprio titolo di studio e il titolo di studio specifico del settore turismo, ad esempio diploma alberghiero, laurea in scienze turistiche. I candidati inseriscono poi le lingue straniere conosciute e il livello di conoscenza. Inseriscono i corsi di formazione frequentati. Inseriscono le conoscenze informatiche e il livello di conoscenza. Le patenti possedute. Le loro esperienze lavorative più significative e preferibilmente nel settore turismo. I candidati, dopo aver terminato la registrazione di tutti i loro dati, contatteranno il consulente della sede ente bilaterale più vicino al loro domicilio, per fissare un appuntamento per un primo colloquio conosciuto e per attivare le candidature. Soltanto dopo l'attivazione delle candidature, i curriculum a vita dei candidati saranno visibili alle aziende in cerca di personale. I candidati già inseriti nella banca dati incontro con le candidature attive non devono candidarsi ad ogni singola offerta di lavoro. Il loro curriculum vite sarà inviato a tutte le aziende in cerca di personale con un profilo professionale coincidente con il loro. Le candidature hanno una validità di 30 giorni. Le aziende possono richiedere invece la figura professionale da inserire nel proprio organico, contattando il centro servizi dell'ente bilaterale della provincia dove assede la loro attività. I nostri consulenti procedono all'inserimento dei dati anagrafici delle aziende su www.turismolavoro.it e ad attivare le richieste di personale. La ricerca dà come risultato una rosa di candidati con un profilo professionale attinente alla richiesta dell'azienda. I curriculum vite dei candidati selezionati vengono automaticamente inviati per mail al referente aziendale che li valuta e li contatta per l'eventuale colloquio finale. L'andamento degli incontri tra domande e offerte di lavoro viene monitorato. È sempre possibile conoscere il numero dei candidati inviati all'azienda, quelli che hanno sostenuto il colloquio e quelli che sono stati assunti. Alle aziende che hanno usufruito del servizio di incontro domande e offerte di lavoro viene inviato per mail un questionario di valutazione della soddisfazione relativamente alla tempestività di risposta dell'ente bilaterale, all'attinenza dei curriculum vite al profilo professionale richiesto ed al livello di informazione dei candidati. Capitolo 2 Borsa Mercato Lavoro La Borsa Mercato Lavoro è una manifestazione ideata e realizzata dall'ente bilaterale dedicata alle aziende del settore turismo che cercano personale qualificato da assumere ed inserire nel proprio organico e dedicata ai candidati in cerca di lavoro che hanno la possibilità di effettuare molti colloqui in un solo giorno. Un evento unico che permette l'attivazione di nuovi contratti di lavoro gratuito. Il sito dedicato è www.borsamercatolavoro.it Sul sito potrete trovare le interviste fatte ai titolari di azienda che grazie alla Borsa Mercato Lavoro hanno trovato personale e quelle dei candidati che hanno trovato lavoro. Potete trovare i dati relativi alle edizioni non rasvolte. Dal 2009 ad oggi sono state fatte 19 edizioni della manifestazione che hanno portato alla stipula di oltre 1535 contratti di lavoro per lo più stagionali. Grazie per aver partecipato al corso Visita il sito www.turismolavoro.it per registrarti ai servizi gratuiti dell'ente bilaterale Per ulteriori informazioni mandate una mail a mercatolavoro chiocciola e bt.toscana.it Grazie per aver guardato il video